Tempesta d'amore Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche, il perdono inaspettato Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate stranieri, me li perdona Andrei. Le trame stranieri di Tempesta d'amore sconvolgeranno i telespettatori di Rete 4. La SOP della quarta rete riserverà tradimenti imprevisti e reazioni sospette. Colpi di scena, franelli, bugie ed equivoci saranno gli ingredienti delle prossime puntate della telenovelas. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che me li perdonerà Andrei dopo il tradimento. Un gesto inaspettato è quello della madre di Clara, che passerà sopra l'infedeltà del fidanzato. Un tradimento reso ancor più grave perché è perpetrato con Susan. Mellie sarà però sconvolta per l'accaduto e per aver spinto involontariamente l'amato tra le braccia della madre di William. Sarà Natasha a farla ragionare sottolineando all'amica che il tradimento di Andrei è stato soltanto frutto di un'attrazione fisica e niente di più. Il cuoco, che inizialmente cercherà di tenere nascosta la verità alla fidanzata uscirà presto allo scoperto. I sensi di colpa per quell'unica notte di passione trascorsa con Susan, continueranno a tormentarlo. Andrei sarà sul punto di essere scoperto. Un filmato di Alphonse infatti rischierà di svelare la verità a tutti. Nel video Susan e Andrei saranno insieme in teneri atteggiamenti. A nulla servirà il tentativo del cuoco di distruggere le immagini, Alphonse infatti scoprirà tutto ma deciderà di mantenere il segreto. Tempeste d'amore, trame episodi tedeschi, il lieto evento. Negli episodi tedeschi di Tempeste d'amore, Andrei si sentirà in colpa nei confronti di Mellie e non riuscirà a mentire alla donna amata. Dopo il colpo basso a Tempesta d'amore ricevuto dall'amor Genstern, il cuoco le svelerà di averla tradita con Susan, ma soltanto una volta e di non aver ripetuto l'errore. Dopo lo shock iniziale Mellie deciderà di perdonarlo. Nel frattempo, nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Alphonse sarà impegnato con il matrimonio di Charlotte e Werner. La coppia, dopo le nozze celebrate anni prima e il successivo divorzio, si ritroverà e sarà pronta per iniziare una nuova vita, evitando gli errori del passato. Alphonse deciderà di girare un filmato per gli sposi e cercherà di coinvolgere tutti i loro amici e i dipendenti del Furstenhof. La tredicesima stagione della SOP, oltre al difficile rapporto tra Mellie e Andrè vedrà al centro dell'attenzione anche William. Il giovane vedrà naufragare il suo legame con Clara, ma sarà ricompensato dall'arrivo di due nuove spasimanti, Ella e Rebecca. Le ragazze faranno di tutto per conquistarlo. L'appuntamento perciò con le altalene emotive e i tranelli di Tempesta d'amore è dal lunedì al sabato, dalle 19.50 alle 21.15, su Rete4. Grazie per la visione!